che girano per l'immensa città. Questa notte nessun dorme a Pechino, finché non sia stato scoperto il nome del principe straniero che ha osato sfidare Turandot. Quanto a lui, Calaf è sicuro di conquistare il cuore della principessa, con un bacio. Dall'opera Turandot di Giacomo Puccini, nessun dorme, tu pure o principessa. E i finali dell'opera, tenore Silvano Sant'Alla. Nessun dorme a Pechino, non è che non dorme. Grazie. 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 Grazie a tutti.